Lavori per il tram, molti disagi e tanta confusione. In questi giorni il caos fa da protagonista non solo a Piazzale Roma, ma anche sulla strada e lungo la riva. PMV, l'azienda che si occupa della logistica di ACTV ed è proprietaria delle sue strutture, ha aperto il cantiere per i binari del tram e il rifacimento del pontile del Vaporetto. PMV è infatti impegnata nel riassetto del Terminal Acqueo di Piazzale Roma, con la demolizione del vecchio imbarcadero e la costruzione del nuovo. La prima fase dei lavori, ora ultimata, è consistita in una serie di interventi subacquei. Il cantiere si è poi spostato su pontili D ed E per migliorarne l'accessibilità. E proprio per i lavori in questo tratto è stato ridotto il passaggio pedonale di circa un metro e mezzo. Oltre che sulla terra si lavora quindi anche sull'acqua. Insula sta concludendo proprio in questi giorni i lavori di consolidamento di fondamenta Santa Chiara, dopo che alcuni mesi fa una parte del muro di Sponda aveva ceduto, provocando una voragine. I problemi causati dal tram non sono però finiti qui. Il cantiere per il tram all'imbocco del Ponte della Libertà ha causato non pochi problemi agli automobilisti, che si sono trovati spaisati di fronte ai cartelli sulla nuova viabilità. Per raggiungere Venezia, infatti, le auto dovranno spostarsi sulla corsia a sinistra, perché a dritto si trova la corsia riservata a bus e camion. Si prospetta quindi un'estate calda, all'insegna del traffico e dei disagi.